welcome amici ben ritrovati ciao a tutti ciao laura come prima ciao a tutti ora laura benvenuti cari amici oggi laura siamo dall'altra parte del continente andiamo in indonesia nuovamente a reagire qualcosa di speciale però dall'indonesia andiamo invece da un'altra parte dall'altra parte del mondo andiamo all'american scott talent che si è presentata una ragazza indonesiana che sta facendo parlare in tutto il mondo tutto il mondo parla di lei una ragazza ipovedente che suona e canta in una maniera spettacolare noi non abbiamo visto ma simon crowell che diciamo il che ha creato il progetto ha dato il golden buzz quindi credo che per stupire anche lui che è una persona insomma che da anni fa questo mestiere credo che ci dobbiamo aspettare veramente tanto noi sappiamo benissimo che questo quando andiamo a reagire a cantanti del genere non sappiamo cosa andiamo incontro come si chiama questa cantante si chiama putri ariani per indonesia putri ariani sì non sappiamo realmente cosa perché immagina laura quando fa tanto scalpore una canzone e relazionando la prima volta può succedere di tutto comunque questa è la cosa importante del nostro canale noi andiamo a razionare le artisti così che vediamo che sono molto bravissimi come questa ragazza infatti lo andremo a vedere ovviamente insieme a tanti altri artisti indonesiani che abbiamo sempre insomma l'ascoltato se voi ricordate andate a vedere le nostre reazioni ma c'è sempre un artista indonesiano quando andiamo a fare una serie di registrazioni e ovviamente quando andiamo a fare questo quindi laura se tu sei pronta possiamo andare sì sono prontissima Davide, andiamo ok oh my gosh oh my gosh mi si 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 When I did, I thought you were my best friend Being my prince, but I was so wrong Oh baby, you changed your faith and turned the blue You break my heart, break my heart Make me so down in loneliness You break my heart, break my home Make me so down in loneliness You let me, you let me when I'm in love I was so wrong, I was so wrong Oh yes! Yes! Do I fall in you Thank you! This is amazing! What is he doing there? I don't know Hi Petri, this is Simon This is Simon Yeah Her voice is amazing Yes And you have a father Yes, I'm a father Very nice to meet you Yes, thank you Thank you What did you want? Well Another song? You didn't like that one? Simon I just said to Siputri I like her voice so much Thank you so much Simon I want her to sing a second song please Thank you so much Simon Thank you so much Simon I want her to sing a second song please What do I gotta do to make you live me? What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there What do I gotta do to make you for me? What do I gotta do to be heard? What do I gotta do to be heard? What do I say when it's a love baby? Woo! Yeah! Sorry Seems to be The hottest word It's sad So sad It's a sad, sad situation And it's very cold And more absurd She just feels it It's sad It's sad So sad It's sad Why can't we don't control for it? Oh, it seems to me Sorry Seems to be The hottest word Wow, wow, wow Che felicità vedere un'artista indonesiana American Gold Talent, una ragazza di 16 anni, una piccola che suona e canta come un angelo, è meritatissimo il Golden Buzz, immaginate come ha cantato e soprattutto in un palco così importante come American Gold Talent che chi vuole e chi va a cantare e a suonare lì, ovviamente deve avere un'emozione grandissima. Molti magari sbagliano per l'emozione, lei invece è stata brava, forte e ci ha fatto sentire due canzoni, due canzoni cantate in una maniera impressionante, si sente veramente che non ha il dono della visione perché non vede, poverina, però ha un dono enorme, quello di cantare in una maniera bellissima. La sua voce è angelica, sentiremo tanto parlare di lei, ne sono sicuro, ne sono sicuro, se tutto il mondo ha parlato di lei è perché realmente merita e abbiamo ascoltato quello che ha fatto, Laura. È bellissimo Davide, il nostro lavoro è incontrare un talento così grande che adesso sta girando tutto YouTube e tutte le piattaforme del mondo così, facendola vedere e conoscere questa grandissima artista Putrin, così, dell'Indonesia, che è un popolo meraviglioso, disciplinato con una delicadezza, una sottilezza nella sua voce, in quello che cantano e niente che può dare di più questa ragazzina con tutta la sua forza, con tutta la sua dolcezza della voce. Perché alla fine Davide, il suonare, il cantare, nel stesso momento ha fatto sentire non più, nemmeno che la sua sutilezza e l'amore e tutto, in ogni parola che diceva, in ogni suono, ha fatto sentire tutto, tutto di questa bellissima canzone. È magnifica, è il pubblico tutto in piedi, no, 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 Davide, niente più che dire, ha vinto benissimo questo premio. Sì, 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 di sicuro appunto andrà poi in finale, ovviamente, perché Golden Buzz gli dà, diciamo, l'accesso direttamente in finale, ma è una cantante così, non può altro che andarsi a scontrare con i più forti. Brava, Indonesia, complimenti ancora per sfornare artisti che ci emozionano in questo canale, veramente siamo felici di questo, vi auguriamo tanto e il meglio. Vi invitiamo, cari amici, di iscrivervi al nostro canale, commentare e scrivere tante cose belle che fate di solito voi e mettere tanti like. Mi raccomando, attivate anche la campanella delle notifiche e presto arriveremo con altri contenuti interessanti dell'Indonesia. Ciao a tutti, grazie! Un bacio, ciao! Un bacio, ciao! Un bacio, ciao!